Jack è consigliato da Da oltre 20 anni in centro a Bologna c'è che si prende cura dei tuoi capelli Massimo Riccardi Parrucchieri Specialista in colorazioni e giochi di colore con l'utilizzo di prodotti di alta qualità Massimo Riccardi ti propone anche il metodo B-Match Trattamento a base di ossigeno puro e principi attivi anti-aging della pelle e del capello Massimo Riccardi Parrucchieri in via urbana 12 a Bologna Bologna Rosso Blu e V Magazine Tutti i mesi in edicola le riviste che vi raccontano tutto sul Bologna Football Club e sulla via tu spalla canestro Eleganti in carta patinata con alcune delle migliori firme del giornalismo Le trovi a solo 3,80 euro in tutte le edicole di Bologna e provincia Se hai lo sport nel cuore Bologna Rosso Blu e V Magazine Giraldi Editore Storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011 I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it Puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram Giraldi Editore Vai buona, ci siamo Posso andare? Ah così, io pensavo di entrare col tappetino musicale No, no, perché visto che stavi già parlando Allora ti ho subito sbloccato Io è vero che parlo tanto Ma pensare che addirittura la gente pensi che io parli Quando sto zitto siamo veramente al massimo È incredibile È come quando una donna è facile Se però non fa nulla Ugualmente si pensa che abbia fatto qualcosa È a morale, è a morale Allora un saluto a tutti gli amici di Radio Baschia d'Italia E ovviamente a Luigi Badduini e Max Cocchi Ciao ragazzi Ciao 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 Buonasera a tutti Puntata particolare che mi concederete di dedicare al mio grande amico Giancarlo Monari Che ci ha lasciato quest'oggi Ha 83 anni Un amico vero Sapevo purtroppo che sarebbero state le sue ultime ore di vita Mi aveva avvisato il collega Bortolotti E purtroppo non sbagliava E Giancarlo se n'è andato Dopo aver vissuto una vita meravigliosa Lasciatemelo dire Tanti episodi che potrei raccontare Ma veramente tanti Divertentissimi con Giancarlo Uno dei personaggi più incredibili E che ha lasciato tanti ricordi bellissimi Oggi se vedete sui social Veramente la sua bolognesità Il suo modo di essere è stato Qualcosa che ha fatto innamorare tutti E la sua passione per lo sport Per il Bologna Una volta racconterò anche qualche episodio Veramente divertente suo Ma no Potrei qualche chicca Me la potrei tirare fuori subito al volo di Giancarlo Vabbè Allora Giancarlo Monari Perché io ricordo che ho fatto per Rete 7 istituzionali Sui social Questo è quello personale Lo volete personale? Vabbè Allora Giancarlo l'ho conosciuto nel 91 Io avevo 23 anni Lui 51 Abbiamo preso uscire sempre insieme Perché si stava sempre fuori di notte Due nottamboli inguaribili Giancarlo Diciamo che viene descritto anche oggi Nell'ottimo articolo di Alessandro Monsini Che ho sentito questa mattina Come un Grande Corridore Col sulchi I gentlemen si chiamano Insomma in realtà non è che fosse poi un fenomeno Correva discretamente Era però un ottimo giocatore di cavallo E devo dire che Non sempre i suoi Arrivavano proprio Al Traguardo No E Mi ha raccontato alcuni episodi Gli anni d'oro in cui era ricco 1958 Aveva già il Ferrari Ferrari giallo Parcheggia davanti al Modernissimo Va a vedere il film All'uscita c'è la folla attorno alla macchina Lui sale Accende la macchina Ovazione di tutti Parte l'applauso E lui Se ne va Sgommando Questo A 18 anni Ai cavalli Partisce A un Evento Verso la Francia Parte Giancarlo Con Un caro amico E altre due amiche A un certo momento Saluto intanto Zanna Che Se ne va Sui ricordi Dice Torniamo agli anni 90 Gli viene Il dolore Rendendosi conto che non è più come una volta Quando parliamo di anni 90 Andiamo in sofferenza Allora La scena è meravigliosa Giancarlo Parte con una certa cifra Da giocare ai cavalli E per il gran premio Per questo evento A un certo momento Non disdegnava anche il casino Siamo stati qualche volta insieme E si vedeva che gradiva Lui un po' invidiava la mia gestione Del gioco A un certo momento Arriva al casino Passa da Monte Carlo Dice Alle sue due amiche E al suo amico Allora Voi andate a parcheggiare la macchina E poi ci vediamo dentro al casino La cifra che aveva portato dietro Vi posso garantire Era molto importante Parliamo di decine di milioni di lire In anni In cui si comprava degli appartamenti Servivano anche per le iscrizioni Varie cose Mentre sta andando a Monte Carlo Passa con la macchina Sotta un ponte E dice C'è il ponte Passa il treno È ovviamente un segno di fortuna Andiamo a Monte Carlo Entra Gli altri vanno a parcheggiare Monari Mi racconta la scena così Banco 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 Merci 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 Monari Arriva dalla porta Ci sono i suoi amici che entrano Perfetto Ecco qua Abbiamo parcheggiato Giancarlo Possiamo andare No no Possiamo tornare a Bologna Ho perso tutto Questa è stata L'uscita di Giancarlo Quando me l'ha raccontata Io sono impazzito Io vi giuro Ho dei racconti Che voi non potete nemmeno immaginare Ne ho altri anche più vivaci Di serate Partico No vabbè No quelli magari in privato No Guarda Non sai cosa potrei raccontarti Ne avrei uno che è da lacrime agli occhi E Beh vai Lo posso fare? Ma sì dai Concediamo Va bene Allora Una serata Sono a cena con Giancarlo In un ristorante Dopo la partita E Viene a trovarmi Una mia amica Che ha fatto le finali Peraltro di Miss Italia Con una sua amica Che è l'amante di un noto calciatore Che ha vinto un mondiale per la cronaca Bene Succede questo A un certo momento Era l'anno in cui c'era il telefonino Il primo vibra call Bene E Sapete che non suonava ma vibrava Un certo momento Ricevo una telefonata Giancarlo E il telefono non suona ma vibra Questa mia amica fa Ma Scusa Giancarlo Cos'è Questo Telefono Cosa fa? Ah questo telefono Non squilla Vibra È una funzione applicata Per non dar fastidio Perfetto Lei fa lo scherzo Se lo mette Nella sedia Potete immaginare la zona E fa Jack Chiamami Ah Allora di fianco Nella tavolata Finalista di Miss Italia C'erano I mariti Che sudavano E la moglie Che davano i calci sotto il tavolo Giancarlo Che è passito da ridere Non fu nulla di sconcio O se c'è stato qualcosa di sconcio Non lo racconterei assolutamente Ma vi posso garantire Che quella scena Natta spontaneamente Penso che abbia generato Tre divorzi Ah Perché sì Qualche marito Ha perso letteralmente la testa Così abbiamo scoperto Il vibra call Ok Perfetto E Serata Vi ribadisco Assolutamente Gogliardica Però Ma sì È stata una piccola Bonaria esclusiva Per Radio Italia Per Radio Vasco d'Italia Per dirvi Cosa fosse Questo grande personaggio E spero che Tra qualche annetto Come ho detto oggi Nel mio editoriale Quando Magari Si ricorderanno di me Ricorderanno Anediti di questo genere Sei incaricato Nicolò Mi raccomando Io li so raccontati Esatto Tu ti dai da fare Io intanto ne produco E continuo Esatto Ti do delle materiale Mi aggiorni Mi aggiorni Quindi che possiate ricordare Jack Monora La mia unica speranza Come avete ricordato Giancarlo Monari Monari Magari Non facendo Quello disastro Ai cavalli No Quello no All'ippodromo Con lui c'erano i cavalli Che nitrivano Ti posso dire solamente questo Lo riconoscevo Benissimo Giancarlo Un grandissimo Allora Max Luigi Com'è come ricordo Un po' spinto Però meritava Dai Ci stava Ma Sì 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 Io penso Al cielo sorride Ve lo garantisco Io penso Se potesse ascoltarti O probabilmente ti sta ascoltando Sicuramente si sta ridendo Sta ridendo e divertendosi Penso proprio di sì L'ho detta perché È una di quelle persone Delle quali puoi raccontare tutto Perché lui raccontava tutto Con un sorriso monumentale Guarda Una cosa incredibile Mi ha fatto veramente Tanto effetto Va bene ragazzi Dopo questo attacco Particolare Curioso Spero divertente Che è una foto Di una persona Di un'epoca Vorrei ovviamente Iniziare Un po' da questa Virtus E poi anche Dalla fortitudo Devo dire due parole Perché Il fallo di Sincerini Con il quale peraltro Mi sono scritto Mi ho mandato la puntata Mi ha ringraziato Ma vi posso garantire Che molti Non sono convinti Che il fallo Sia stato Anzi il fallo Che l'intervento Involontario Sia stato realmente Involontario Ma ci arriviamo tra poco Virtus Ragazzi Io Ricorderete Prima del match Col Valencia Ho detto La Virtus Batte il Valencia Poi se va bene Vince un'altra partita Massimo due Ho sbagliato Sto sbagliando Tu Luigi Avevi creduto In altre possibilità Se non sbaglio No Io Speravo Che vincesse Col Valencia Speravo Però Sono sempre 20 probabilità Su 100 Come quelle Di domani sera Cioè La Virtus In questo momento Con La rosa Un po' Decimata Per vari motivi Non è riuscita A vincere Neanche Contro Il Trinchieri Anzi Ha preso Probabilmente Una lezione Di pallacanestro Ma le mancavano Poi Cioè voglio dire Le mancavano Due elementi Molto importanti Mancava Purtroppo Va anche Senza Va Va senza Cosa dici Mancava anche Una Kaunas Che si chiama Smith A Vasquez Sa giocare Certo Mancavano Però Quando ti mancano Hackett Hackett Secondo me Si farà sentire La mancanza Di Hackett Anche domani È un play Che mette ordine E Se no Praticamente Bellinelli Può fare Tutti Cercare Tutti gli spazi Vuoti Che vuole Ma Se non ha Veramente Un gran passatore Come Hackett Fa Molta fatica Max La tua opinione La mia opinione È che la Virtus In questo momento Sia Completamente In valia Di se stessa È in una condizione fisica Che definirei Purtroppo a causa Anche delle assenze È in condizioni fisiche Che posso definire Pietose Definisco pietose Perché questa squadra Ha 30 minuti Nelle gambe Se in 30 minuti Riesci in qualche maniera A prendere un marginet Tale Da consentirle Di gestire Gli ultimi 10 minuti Può avere qualche speranza Altrimenti Jack A caudas Fai 49 punti In due quarti Sei sopra di 6 Cioè Io credo che Già alla fine Dopo 20 minuti La sentenza Fosse più o meno Quasi scritta La Virtus La Virtus In valia Di se stessa È in condizioni fisiche Che sono Deficitarie E in questo momento Secondo me Ha un grave rischio Perché Cioè Il rischio è che Comunque Con la fine Che ha messo in cascina I play-in Probabilmente Li riuscirà a fare Comunque Ci sono quasi Quattro partite Di vantaggio Con quattro partite Da giocare Nei confronti Dell'undicesima Quindi Cioè Dovrebbero Chi è di dietro Dovrebbe Viaggiare al massimo E gioca E gioca contro Squadra Comunque Che hanno interesse Comunque A fare il risultato E se hai visto I risultati Di queste ultime Di queste ultime Settimane Di sorprese Ne abbiamo viste Veramente pochi Neurolega Cioè I pronostici Più o meno Si sono sempre Si sono sempre Realizzati Cioè Si è sempre rispettato Quello che era L'ordine della classifica Che si stava venendo A stabilire Di sorprese Ne abbiamo viste Poche Purtroppo Chi ha fatto Più sorprese È stata la Virtus Che ha perso Conto Tra tante squadre Che erano Dietro di lei La classifica Ma perché La Virtus In questo momento Sta pagando Il grande sforzo Fatto prima Prima o poi Deveva succedere Io non mi sento Di colpare nessuno Verissimo Però Facciamo anche Un ragionamento pratico Andiamo a vedere Anche le partite Che rimangono L'ultima è con Basconia Che è una di quelle partite Che diceva vinta Sì però Basconia Sta giocando Per Non solo Un discorso Di playoff O di play in Ma conta anche La posizione Perché settimo Ottavo Hai due possibilità Per accedere Alla fase successiva Nono e decimo Hai una possibilità sola Quindi Basconia È una Bologna A giocare alla morte E anche Milano Che è andata a vincere A Monaco Grande svantaggio Per la Virtus Sarebbe stata una bella notizia Due mesi fa Ma adesso è una beffa Per come si metterà Per come si metterà la classifica Dobbiamo vedere come sarà in quel momento la classifica Perché Adesso Io che andrà di Milano Non ricordo bene Di certo so che domani Al Fenerva c'è in casa Che non è una partita semplice Perché Il Fenerva c'è Da quando è arrivato Da quando è arrivato Da quando è arrivato Gli assicchevicius Credo abbiamo perso una partita in tutto Quindi Non è Vuol dire La partita più semplice Di questo mondo Occorre vedere come ci arriverà Perché Tipo Posso dirtela Se Se Milano È Alla penultima Alla penultima di Eurolega Fuori dall'Eurolega Cioè Ti posso Io Io fossi Messina Non mi dannerei l'anima Per vincere contro la Virtus Farle giocare i play-in E farla ulteriormente affaticare In ottica campionato Non è un discorso sbagliato Non è un calcolo Che credo Messina farà Perché Noi ragioniamo da fuori Lui da uomo di campo Potrebbe essere più portato alla vittoria E via dicendo Però Sono d'accordo Cioè Nell'ottica del campionato Messina Dovrebbe godere Di un logorio della Virtus Allora Vado Avanti Hai detto bene Il Fenerva Cioè poi Sai i pronostici Rifilati 18 a Monaco Fuori casa Quindi voglio dire Teoricamente Può vincere e perdere Dunque Monaco è tanto talentuosa Quanto umorale Come squadra Jack posso farti una domanda Poi Dei nostri giornalisti Di Radio Basket In più di uno Mi ha detto Guarda che arrivare Alla fine La classifica Di primi dieci Di Eurolega È quella che vedi adesso Magari uno si sposta Sopra uno sotto Ma è quella che vedi adesso Secondo te O secondo voi Perché poi metti in mezzo Anche Cocchi Tu ricorderai Che io ti dissi La Virtus Non vai al playoff Quando tu pensavi Di scommettere Sui playoff E ti dissi La quota è sbagliata Gioca Non sui playoff La Virtus 34 partite Sono tante 34 partite Definiscono i valori Poi noi Celebriamo i momenti belli Perché è giusto Che sia così Ma 34 partite Definiscono i valori Se tu oggi Prendi la classifica Tendenzialmente È quella Poi è ovvio Che c'è una partita Che vinci o perdi Di uno Qualcosa può succedere Però Secondo te Le prime dieci Sono quelle che leggiamo adesso Quindi dal Real Madrid Al Partizan Allora Sai cosa Jack Sai cosa Secondo me Come dici tu La vera partita A parte la partita Con Milano La vera partita Della vita La fa col Baskogna Anche Perché Il Baskogna È 16 E 14 Noi siamo 17 E 13 Tu lì Decidi Chi va Nono E chi va Ottavo In quel momento Cioè Non è che ti cambia Molto Ti cambia Il fattore campo Nel play in Fine Arrivare ottavo Arrivare nono Perché Ti giochi con Una contro l'altra Comunque Dattemi una cosa La Virtus Secondo voi Vince a Belgrado Con la Stella Rossa No Dagli ultimi Dizioni Della Stella Rossa Sarebbe Sarebbe Ospicabile La Virtus Delle condizioni Attuali Non può Vincere a Belgrado Bene La Virtus Secondo voi Batte il Panathinaikos A Bologna No Sogniamo La Virtus Batte a Milano A Milano Il 5 di Aprile Dipende Che Milano Ti trovi Potrebbe essere Perché hai già Recuperato anche Hackett Sicuramente Dovresti avere La squadra In palla Benissimo Se trovi la Milano Di ieri sera No Secondo me Allora Io Ho l'idea Che la Virtus Abbia dato Il meglio Fino ad ora E adesso Sia In una fase Ma non vi dico Neanche calante Cioè Siano venuti I nodi al pettine Questo è il punto Fondamentale Sono venuti I nodi al pettine Questa è la verità E di conseguenza Bisogna prendere La situazione Per quella che è Solo che Se vali questo Io mi domando Quali squadre Puoi battere Io penso Che la Virtus Potrebbe Vincere Con una Belgrado Disinteressata Ma non so Quanto Belgrado Molli Perché In casa sua Forse una partita Bologna Si potrebbe dire È diverso Ma Belgrado Davanti al suo pubblico La Stella Rossa Non la voglia Di fare delle figuracce Un attimo Ti fermo Max Perché mi hanno detto Che una parte Del pubblico Della tifoseria È in sciopero Contro In protesta Contro la società Contro il presidente Io non so Se ci sia Cioè Non so com'è La situazione Beh Questo non è La squadra Andrà in capo Motivata Se vince A Belgrado Siamo qua È già Nell'autostrada Per i play Sì Io credo Che sia più facile Per la Virtus Vincere a Belgrado Che non Vincere in casa Con Vasconia L'ultima Se questa è la Virtus Perché è più facile Vincere con una squadra Demotivata Teoricamente Che non una motivata Il fattore campo Ha peso Ma il Panathinaikos Motivato Mi sembra più forte Bisogna vedere Anche il Pana No beh Il Pana Jack No Il Pana Non ne parliamo neanche Dipende da una cosa Dipende anche qui Dalla classifica È chiaro che Si gioca le prime posizioni Perché teoricamente Il Pana Può ancora arrivare Secondo Addirittura Sì Rischia però Anche Rischia però Anche di arrivare Jack Rischia però Anche di arrivare Quinto Che vorrebbe dire Arrivare quinto Avere La bella Fuori casa Nel playoff Cioè fondamentalmente L'importante Per chi sta giocando In quelle posizioni È arrivare Nelle prime quattro Perché se arrivi Nelle quattro Vuol dire che Comunque Hai la bella In casa Nel playoff Quindi il Pana In questo momento È Terzo Apparimento Con Fenerbace E Monaco Quindi È Terzo Per il gioco Della differenza Canestri Ma Ti basta una sconfitta Per ritrovarti Quinto Quindi il Pana Riva Passato Facciamo un ragionamento Max Allora È vero Che la Virtus Diciamo Che Con Un Minimo Divento Favorevole Entra tranquillamente Nei play-in Perché La partita Abbordabile Quella della Stella Rossa La partita Abbordabile Per me Comunque Rimane Quella del Bascogna Perché Se la Virtus Pensa Di non poter Passare L'esame Bascogna Meglio Che non Partecipi Neanche Perché Il Bascogna Comunque È nei play-in Allora Viene buttata Fuori Al primo colpo Poi C'è da dire Che con Milano Con Milano Potrebbe Potrebbe Farsela Perché Come dice Max Milano Tanto Non dovrebbe Riuscire Dico Non dovrebbe Riuscire Ad entrare Nei play-in A questo punto La Virtus Potrebbe Arrivare Di misura Nei play-in O addirittura Recuperare Sulla Olimpiakos Ed entrare Nei play-off Per un caso Di fortuna No 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 Lascia perdere Le prime sei Luigi Per cortesia No Cioè Se parlare Di prime sei Guarda Ascolta L'Olimpiakos Basta Però Luigi Il Banchi La lettura Sudusko Ivanovic Pare averla Fatta bene Perché quest'anno L'ha già battuto Due volte Una volta Che allenava Lo Stella Rossi Inizio stagione Un'altra volta Con il Bascogna Quindi In linea Di massima Era un'altra Virtus Scusa Un'altra cosa Che vi deve interessare Piccolo particolare La differenza Canestri Ok La Virtus Ha una differenza Canestri Sfavorevole Con L'Olimpiakos Quindi Voi vedete Sempre due punti Ma ricordatevi Che sono in realtà Sempre di più Ha una differenza Canestri Negativa Con il Maccabi Di Tel Aviv C'è la positiva Con Monaco La negativa Col Fenerbahce Vedremo come va Col Panama Siamo già Oltre Quindi io credo Che non ha senso In questo momento Preoccuparsi Del playoff Infatti L'obiettivo Della Virtus Oggi L'obiettivo minimo Oggi L'obiettivo minimo È arrivare Nei play-in L'obiettivo massimo È arrivare In settimo In ottava posizione Questo bisogna dire Oggi 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 Tre mesi fatti Dicevo L'obiettivo Sono i play-off Oggi Ti dico È diverso Ma io Scusate Ma io vi faccio Una domanda Perché A me A questo punto C'è un dubbio Una cosa Sorge Io Sono convinto Che alla fine Comunque Col margine Che ha la Virtus E ripeto Con il fatto Che le altre Comunque Per poterla passare Chi le sta dietro Dovrebbe sempre Vincere E ci sono scontri diretti Per cui Comunque Non tutte Possono venirti avanti E sopravvanzarti Quindi alla fine In un modo Nell'altro La Virtus Magari da decima Nei play-in Ci entra Ma la domanda è Cioè Facciamo i play-in Questa squadra Va a giocare Altre tre partite Di play-in Quindi Per altre due settimane Si spreme Ora Per Andiamo a giocare Dei play-in E per andarli A fare Andiamo a giocarci Quelle che sono Invece Delle concrete Possibilità In campionato Ad andarla a vincere Perché se tu Voglio giocare I play-in Non te lo prendo A te Non te lo prendo E vorrà dire Che Milano Vincerà lo scudetto E che c'è frega E tu direi Che sei andato fuori Giocando Contro l'ottava D'Eurolega Sei contento Di questo Certo Io se ho l'opportunità Di andare avanti In Eurolega Alla mia seconda Stagione di Eurolega Faccio il play-in E perché Gli altri Sono più forti Perché sono cotto Perché si dice Non mi convince Per mille motivi Vado fuori Io ho giocato I play-in Di Eurolega Gli altri Che hanno speso Ben di più Non li hanno giocati Vincono lo scudetto E che festeggino Sai cosa se ne fanno Degli scudetti A Milano adesso Niente Perché Messina Non è considerato A Milano L'allenatore Che ha vinto Gli ultimi due scudetti E osannato È considerato Quello che danni Fallisci in Eurolega Questa è la verità Questa è la verità Con lo scudetto A Milano È il nulla Si vuole una squadra Competitiva in Eurolega Perché ormai E tu ne hai piena coscienza Quando partecipa All'Eurolega Ti può interessare La finale scudetto Già Se ti becchi Un quarto Con Tortona Faccio una squadra A casaccio Vanno in In 5.600 Perché la gente Interessa l'Eurolega Perché finché Non la fai Il campionato Ha un valore 2021 Tutti abbiamo festeggiato Lo scudetto Festeggeremo lo scudetto Anche adesso È ovvio Ma nel momento In cui tu fai l'Eurolega Tu Vuoi il meglio In Europa E se il nostro scudetto Si chiama Play-in E poi Uscita I play-in Beh per me Vale più Quello Che un diciottesimo Posto E uno scudetto E più che altro Jack C'è diversi discorsi Tra il discorso Di Poi un rinnovo Di licenza Con Eurolega Dicendo Sono arrivato Alla post-season Insomma aiuta Il rinnovo Lasciamo stare Ben l'ha già detto In tanti Il rinnovo In Eurolega Cioè non è Quanto arriverà La Virtus Che determina Il rinnovo In Eurolega Allora Cioè E se allora Parliamo di rinnovo In Eurolega Se ne parlava anche Facciamo il bel impianto Per il rinnovo Delle Eurolega Ora L'impianto nuovo Che verrà fatto Alla Virtus Scusatemi È una cosa Orripilante Dice Un cubo di cemento Dentro il quale Verranno messe Delle poltrone Rimovibili Di tubolari Dove non possono fare Marketing Dove non potranno Fare niente Un impianto Che alla Virtus Renderà zero Se non il costo Dei biglietti Che faranno pagare Per entrare Non conveniva Tenere questo A quel punto Eh Non conveniva Tenere questo A quel punto Non so I costi di affitto Di tutto No Perché È più Per Al comune Conviene di più Fare un cubo Di cemento Dove lo fanno Dove Dove verrà fatto Che tenessi Quel cubo di cemento Dove sono ora E ogni tanto Qualcosa che interessa Di più Non al comune Ma a chi mette I soldi Assolutamente no Assolutamente no La sapere Cioè A Bologna no A Bologna no A meno che A meno che Voglio dire A meno che Non ti chiami Farinetti E allora A quel punto lì Magari qualche porta Si apre in più Però Evidentemente Se fai altri Cioè Quelli che sono Le tue esigenze Non ci sono La Virtus Si ritrova Si ritroverà Un impianto Che Dovrà Condividere Con delle fiere In cui In cui Non potrà fare Uno straccio Di palchetto Di skybox Che sono quelli Che ti fanno Ti portano Più denaro In cui Non potrà fare Attività settimanali In cui non potrà fare Un museo permanente Ricordo che La Virtus Ha un museo permanente Che praticamente È pieno di ragnatele All'Unipolarenno All'Unipolarenno Non so neanche come si chiama ora All'impianto di Casalecchio Però c'è ancora Il museo della Virtus Te lo ricordo Ci sono ancora Dei cimili Che non so che fine Abbiano fatto Però Ci ha pagato Un mutuo Di 450 mila euro Sopra Sopra quella cosa lì Quindi non si potrà fare Un museo Dove portarci la gente Non lo potrai fare Non lo potrai fare Vivere i tuoi tifosi Durante la settimana 24 ore su 24 Perché lo dovrai Dividere Con la fiera Metterai Delle tribune Che sono Dei tubolari Perché saranno Quello saranno Dei tubolari Monteranno Il parquet Lo smonteranno A seconda Delle varie esigenze Ma che cosa Che intoliti Di genera Quell'impianto Va bene Prendo atto Di quello che dici Non è il mio settore Ma Ascolto Con attenzione Ciò che affermi Abbiamo dei messaggi Al volo Leggiamoli Velocemente Allora Abbiamo Marco Rimondi Dice Grande Jack Peraltro Non ti ho detto Una cosa Che su Radio Basket Con le tue dichiarazioni Tra virgolette Pro Scariolo Hai creato Un paglione Da stamattina Che ci dicono Ah Jack Bonora Ha detto Che allora Scariolo Aveva ragione Guarda Anche prima VSM Intanto Mi fa piacere Che mi ascoltino Che è la cosa principale No ma hai creato Un delirio Allora Voglio essere Molto chiaro A fronte Di quello Che stiamo vedendo Ora Io credo Che qualche Dubbio di Scariolo Fosse Da considerarsi Legittimo Cosa vuole dire Che Scariolo Aveva dei dubbi Stiamo parlando Dei più quotati Allenatori d'Europa Che per me In Virtus Ha lavorato da 6 Quando ho visto Banchi Ottenere questi risultati Ho detto Secondo me Da 5 Adesso Io credo Che non sia Comunque da 6 Perché Banchi Ha fatto di più Di Scariolo Secondo me Perché se Banchi Porta questa squadra In un play-in Ha fatto una signora Stagione rispetto a Scariolo Però i dubbi Di Scariolo Che non vuol dire Che io avrei tenuto Scariolo Che io vorrei Scariolo Adesso sulla panchina Della Virtus Ma i dubbi di Scariolo Si rivelano Si rivelano oggettivamente Più legittimi Perché tutti quelli Che hanno Overperformato prima Adesso Stanno un po' Facendo fatica Se poi mi si dice Banchi ha recuperato Lundberg Belinelli Che era stato definito Uno che poteva aiutare E diventato Uno dei migliori Giocatori d'Europa Benissimo però anche Nella seconda parte Di stagione Con Scariolo Se Miche Che ha giocato bene Solo i play-off E malissimo La regular season Con Scariolo Ha fatto sicuramente Meglio con Banchi Beh allora Io vi dico Per me Banchi Meglio di Scariolo Certo Se prima vi dicevo Banchi È da 10 Oggi Io vi dico Banchi è da 7 Se vi dico Scariolo Era da 5 Visto Banchi Adesso vi dico Scariolo È diventato da 6 meno Ecco Il discorso Che faccio Intanto Grazie per ascoltarmi Considerate due cose Uno È legittimo Di battere Su quello che dico Due Non escudete Che spesso Dica delle boiate Tre Bene o male L'importante È che se ne parte Esatto Altri messaggi Aldo Brianzi Senza A che facciamo Moltissima fatica Giocatore Enormemente sottovalutato Ricordiamoci Che senza lui E Tocco Non vincevi L'Eurocup E oggi Non so Se saresti Stato in Eurolega Innegabile Vai Stefano Bucci L'ottimismo È di casa Oggi Non so riguardo A cosa avete detto Ma questo è sempre di casa Siamo gente felice Franco Rossi I play-in Sono il target Di Zanetti Inizio stagione Per un attimo Abbiamo pensato In grande Ma restiamo Con i piedi per terra Legittimo Vai Poi Stefano Bucci Scusate Non voglio entrare In polemica Ma credo che tre partite Si possano vincere Siamo stanchi Ma non demotivati Il sesto posto Diventa difficile Ma solo Per il problema Della differenza punti Calcolando anche Che ci sono scontri diretti Crederci Tre mi sembrano molte Come diceva Una mia amica Che cretino Mi credo Certo Dipende dal lasso Di tempo In cui ti vengono chieste Purtroppo aveva anche ragione Vai 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 Poi Kenneth Scrive Io farei un'ora Di aneddoti Spettacolare Ti dice Lo so Inizio puntata Sai che è il mio pane E poi dice già Che è corretto Dire che mentre Nei primi mesi La Virtus Poteva vincere Da chiunque Ora può perdere Da chiunque Sacro santo Allora ragazzi Parliamo un po' Di questo Cinciarini Io mi sono Scritto con lui Sì sì ce n'è Ce n'è Magari ne abbiamo Vai 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 Audio di Marco Buonasera sono Marco Vorrei fare un po' Di concentrazione Sulle oreliche Della Virtus Comunque Già Da Precampionato Si diceva Che questa squadra Era corta Vai a vedere Che so Le squadre turche Il Fenerbahce Ha Dieci stranieri Le Fes Ne ha undici E loro In campionato Ne possono schierare Cinque A partita Ok Perdiamo E praticamente Non viene quasi sostituito Perché Lomas Non l'hai più visto Non hai Non hai Preso un giocatore Protagonista Hai preso un Gregario Abbiamo una squadra Di Gregari Da un lato Sono d'accordo Con Scariolo Non sono una sua vedova Però Quando dice che Bellinelli deve essere Un aiuto Io mi sono d'accordo Per me Bellinelli deve essere La ciliegina Sulla torta In questa squadra Bellinelli deve fare Mezza torta E ha 37 anni Come Dunston Come Hackett Io questo Lo considero Un anno Di transizione Vediamo L'anno prossimo La Virtus Di Banchi Allenata da Banchi Ok Allora Due parole Voglio spendere Su Cincarini Max La tua opinione L'opinione L'opinione è che Cincarini Abbiamo sicuramente Fatto Un movimento Scomposto Però Io conosco Conosco La persona Abbiamo parlato Più di una volta Ha giocato in fortitudo So quanto So quanto Tenesse E E quanto Abbia sempre Parlato bene Della fortitudo Io onestamente Mi rifiuto Di pensare Che Abbia fatto Deliberatamente Ciò che gli viene Accusato di fare Seppure ti posso dire Che Mi è capitato Di leggere Commenti Che dicono Non vediamo L'ora che Forri arrivi Per seppellirlo Di fischi Però onestamente Io Non mi sento Di gettagli Alla croce Addosso È stato Un movimento Sicuramente Non congruo Con Quello che c'era Però mi rifiuto Di pensare Che sia stato Un movimento Teso Deliberatamente A fare Quello che ha Fatto Prima All'avversario Concordi Luigi No Non concordo Io Penso Che Assolutamente Perché Appunto Anche io Conosco La persona È Una persona Squisita Una persona Super pacifica In campo È un guerriero Lo è stato A favore Della fortitudo E Purtroppo In quella partita Lo era Contro La fortitudo Perché lui Vuole vincere Una ditata In un occhio A un suo avversario No Sto arrivando In fondo Lui Sicuramente Quella sbracciata L'ha data Sapendo Quello che faceva Non sapendo Che avrebbe Fatto un danno Di quel tipo Allora Quelle sono Le sbracciate Come dire Perché lui Soffriva molto Freeman Freeman Stava giocando Benissimo In quel momento E lui Gli ha voluto dire Con un colpo in faccia Stami lontano Ma non voleva Probabilmente Queste sono Congetture Però L'ha fatto Più volte Questo movimento E più volte Ha preso Anche antisportivo Quindi Sia con Forlì Che precedentemente Con la fortitudo Qua non possiamo Vedere dei filmati Ma se no Io in questa Semana Mi l'hanno mandato Esatto Te l'hanno mandato Sì Allora Sicuramente Non voleva fare Quel danno Lì Però Visto che Poi alla fine Non è che È rimasto cieco Alla fine È andata bene L'ha tolto fuori L'ha messo fuori uso Per una partita Lui Non essendoci L'instant replay Non si è preso L'antisportivo Che probabilmente Otto arbitri Su dieci Gli avrebbero dato Visto che In altre occasioni Per il medesimo Movimento L'hanno dato Quindi Quindi è finita così Sì però No sai cos'è Sono affascinato Dal pensare Che lui abbia organizzato Tutto questo A 41 anni Durante una penetrazione A canestro Se è così capace Mettiamola a risolvere Il conflitto Tra Putin e Zelensky Perché se è così Stratega Abbiamo il novello Metternich Ma cosa Chi mandiamo A trattare Con Putin e Zelensky Ma in che senso Scusa Jack Non è che lui Pensava Di fare un taglio Sull'arcata Sulla palpebra Lui semplicemente Voleva Chiaramente Tenere lontano L'avversario Che gli stava vicino In viso Non volendo Colpire in un occhio Ma una manata Che sia sufficiente Per metterlo fuori Gio Ma no Lui voleva dare Una manata Basta Quindi una manata Per dire Stai lontano Per dire Stai lontano Ah E Freeman Ti sembra uno Che si spaventa Quando Cincerini Ti dà un colpesso Insomma Beh guarda Questa è la regola Di tutti i giocatori Guardando la stanza fisica Dei due Fatica a pensare Che Freeman Si intimorisse Cioè Soprattutto Dà una barassata A Cincerini Ma Comunque Ti dico Questa è la regola Di tutti gli allenatori Slavi Quando O serbi Quando Che non c'entra niente Con Cincerini Ma questa è la prima regola Che ti dicono Il giocatore migliore Loro Dagli Un fallo Subito Per tenerlo Quando ti dà fastidio E quando è un giocatore Che vuoi fare Nervosire Cacciagli una bella Taccagnata Ti metti Cincerini In penetrazione Che sfiora Freeman Lo colpisce Tu hai detto addirittura Con l'unghia lunga Perché avevi visto Che aveva l'unghia lunga Ma no No Io ho detto Che ha sempre avuto L'unghia lunga Quindi il danno Che ha procurato È quello Quindi Il mignolo lungo Se lo retroscena Questo Questo è una roba Che dovremmo chiamare Il tenente Colombo Perché Altro che Allora Voglio dire Ti stai insegnando Stasera Che a base Si gioca Con le unghie lunghe Adesso facciamo così Organizziamo Un collegamento Telefonico Con una mia amica Che fa l'estetista E fa le unghie Almeno Non so se poi Estenda Il confine E chiedi Chiedi alla tua amica Se non ci sono persone Che le arrotano Anche Che diventano Come ero Zoi Sì Bene Non so Buttagliela giù Diversamente Jack Vedi tu come Buttagliela giù La faccenda No Non gliela butto giù Io dico solo Che Avremo presto Un collegamento Con un estetista Che ci racconterà Tutta la verità Sullo scontro Cincerini Freeman E tutto per quanto riguarda Tristi Jack Alla prossima settimana Ciao a tutti Ciao